Eccoci nella nostra rubrica di debunking con Camilla Vagnozzi. Ciao Camilla. Ciao Tommaso. Allora, che cos'hai per noi oggi? Di che cosa si è parlato in modo sbagliato questa settimana sui social network? Allora, negli ultimi giorni i principali temi della cattiva informazione sono, come spesso accade, andate di pari passo con i principali argomenti anche del dibattito pubblico. E comincerei dal primo, che è anche uno dei più sentiti dagli utenti sui social italiani, l'acceso dibattito sul Green Pass e le relative scelte francesi. Cioè, come i nostri ascoltatori sapranno, qualche giorno fa il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato l'estensione del Green Pass per accedere ad esempio a ristoranti, caffè o su alcuni mezzi di trasporto. La decisione ha incontrato l'opposizione di una larga fetta di cittadini che si sono riversati nelle strade o nelle piazze delle diverse città francesi, soprattutto a Parigi, in segno di protesta. Fin qui tutto vero. Ci sono però anche dei contenuti falsi, o meglio, decontestualizzati che sono circolati sui social e soprattutto sui social italiani, a partire da quelli che sono dei presunti scatti delle fotografie della manifestazione. Particolarmente virali, e ce ne siamo occupati noi di facta, sono due. Una fotografia che mostra una ragazza di spalle con la bandiera francese sulle spalle e di fronte a lei ci sono gli Champs-Élysées. Bene, questo scatto è reale, risale però a tutt'altro contesto. Perché? Perché è del 2018 ed è stato scattato quando la Francia ha vinto i mondiali di calcio e i suoi cittadini si erano riversati nelle strade per festeggiare. Dunque, tutt'altro contesto e tutt'altro periodo per questa fotografia. Tra l'altro, poi, del 2018 è anche un altro scatto che però, in questo caso, oltre a non avere nulla a che vedere con il Green Pass e la pandemia, non c'entra nemmeno con i mondiali di calcio. Cioè, si tratta di una foto che mostra una folla nei pressi dell'arco di trionfo che è immortalata nel corso di alcune proteste che però sono avvenute ormai due anni e mezzo fa e che vedevano protagonisti i gile gialli che manifestavano allora per sia l'aumento di alcune tasse sul carburante e per chiedere poi le dimissioni anche del presidente francese Macron. C'è però da dire che, oltre a queste due foto decontestualizzate, abbiamo visto anche altri contenuti, in particolare dei video. Uno mostra delle forze di polizia, ed è stato super virale questa settimana, tanto che da lunedì a stamattina c'è ancora stato segnalato, questo video mostra delle forze di polizia francesi togliersi i propri caschi in segno di solidarietà con i manifestanti. Stando a quanto riportato da alcuni utenti sui social, avrebbero espresso la loro solidarietà nei confronti dei manifestanti che protestavano contro il Green Pass e le recenti misure. Quindi queste immagini risalirebbero qualche giorno fa, luglio 2021. In realtà però il contesto è tutt'altro, cioè è un video del 2020 e in quell'occasione i poliziotti erano solidali con il personale infermieristico francese che allora manifestava contro un po' in generale lo stato in cui si trovava la sanità pubblica del paese e in particolare contro i bassi stipendi offerti proprio agli operatori sanitari. Quindi anche in questo caso le immagini sono reali ma mostrano tutt'altra situazione e contesto. Rimanendo in tema di manifestazioni, negli ultimi giorni si è anche sentito parlare molto di Cuba. Dall'11 luglio nel paese caraibico si sono svolte una serie di proteste contro il governo locale comunista per la mancanza di generi di prima necessità, di medicinali, di energia elettrica e più in generale anche per la gestione della pandemia di Covid-19. Insomma una situazione molto critica su cui poi ci sono anche sensibilità molto forti e in cui noi qui non ci addentriamo. Quello che però ti chiedo è, le notizie sul tema che sono circolate in Italia sono state sempre corrette oppure avete anche lì riscontrato casi di disinformazione? Allora sul tema per ora ci siamo imbattuti e anche in questo caso in modo simile tra l'altro a quanto abbiamo appena visto per le proteste in Francia, soprattutto in filmati decontestualizzati. Cioè secondo molti utenti dei social i contenuti che sono stati condivisi testimoniavano appunto la situazione cubana e le relative proteste ma in realtà si trattava di video girati in altri paesi e in momenti decisamente diversi. Abbiamo ad esempio visto un filmato che in realtà mostrava gli argentini festeggiare per la recente vittoria della Coppa America, dunque altro paese e decisamente festeggiamenti e non proteste e quindi contesto totalmente diverso. Oppure un altro video mostrava degli haitiani protestare nel 2019, dunque anche qui altro contesto e tutt'altro anno. Anche in questo caso purtroppo sull'onda delle proteste e più in generale di immagini che mostrano folle per strada o in piazza si è arrivati quindi alla totale decontestualizzazione di filmati o fotografie e di nuovo la condivisione è purtroppo risultata essere molto più semplice e veloce rispetto invece ad una verifica dei diversi fotogrammi o delle singole immagini che invece era necessaria. Dunque temi diversi ma stessa storia sia per la Francia sia per Cuba per quanto delle proteste ci siano davvero state nei due paesi poi sui social si è troppo spesso condiviso un contenuto che in realtà con queste vicende non aveva proprio nulla a che fare. Passiamo però ora ad un ultimo argomento. Oltre alle decisioni del governo francese e alle relative proteste e poi alla situazione cubana questa settimana si è parlato molto anche dei danni causati da un grave alluvione che ha colpito diverse aree di Germania e Belgio provocando purtroppo anche numerose vittime. Di nuovo parliamo soprattutto di contenuti video e immagini sui social ma non solo abbiamo visto fotografie e filmati sconcertanti che dimostrano poi la potenza della natura e la forza distruttrice che la caratterizza cioè pesanti automobili trascinate dall'acqua o palazzi sommersi e via dicendo. Anche in questo ambito Camilla c'è stata della disinformazione? Sì anche se più che vera e propria disinformazione infatti ricordiamo che il termine indica letteralmente una notizia diffusa con l'intento di colpire qualcuno qualcosa spero che in questa occasione già così critica e delicata si sia trattato di semplice con semplice tra virgolette distrazione di utenti e di una generale tendenza decontestualizzare non volutamente filmati o immagini. Sul tema abbiamo ad esempio verificato un video che stando a quanto riportato sui social mostrava una diga rompersi nei pressi di Wuppertal in Germania che è tra l'altro un'area particolarmente colpita dall'alluvione un diga che si rompeva appunto a causa della recente alluvione. In realtà i vigili del fuoco locali hanno smentito la notizia. Il filmato è reale ma mostra una scena che si è verificata in una località a 120 chilometri da Wuppertal e si trattava dell'allagamento di una miniera e quindi non della rottura di una diga. Ora per quanto si tratti in entrambi i casi di allagamenti legati alla stessa alluvione e di un filmato che è reale il contesto però è come sempre fondamentale e tra l'altro a parer mio lo diventa ancora di più in situazioni di emergenza. Cioè condividere un contenuto simile decontestualizzato rischia ad esempio di allarmare non solo gli abitanti determinate aree ma anche relative parenti delle persone che vivono in una data zona quando poi in realtà le immagini non appartengono a quel quartiere, a quella regione ma a tutt'altro posto. Insomma si rischia di creare con un semplice click di condivisione caos e panico in una situazione che di per sé era ed è ancora oggi molto delicata. Il consiglio quindi è al solito quello di fare un check, una verifica in più prima di condividere un contenuto appunto per evitare di contribuire in prima persona alla diffusione di notizie false. Guarda permettimi di fare un inciso proprio per dire che questo consiglio è incredibilmente utile nella sua semplicità e quindi non ci stanchiamo mai di ripeterlo ai nostri ascoltatori. Quando navigate sui social o fate due chiacchiere al bar o perché no ascoltate un podcast abbiate sempre quel senso critico necessario a farsi venire qualche dubbio a cercare una conferma almeno una delle informazioni che sentite e leggete senza invece di come dire farle automaticamente proprie perché ci piacciono perché vanno a confermare qualcosa che già pensiamo o fanno leva su qualche sentimento anche molto bello come può essere la voglia di aiutare gli altri di intervenire in una situazione dolorosa con empatia eccetera però occhio perché purtroppo spesso la disinformazione sfrutta anche questi sentimenti buoni che abbiamo per ritorcerceli contro o comunque per fare danni. In gran parte delle occasioni basta davvero una semplice azione di verifica per scoprire che qualcosa non torna quindi davvero il nostro invito è fatelo e fatelo fare anche agli altri ma ti lascio di nuovo la parola Camilla. Sì grazie Tommaso e concludo velocemente con un ultimo esempio che è esempio e caso di disinformazione che ha riguardato le alluvioni in Germania e Belgio e parlo in particolare di una foto c'è uno scatto che mostra un'auto quasi totalmente sommersa sul vesto posteriore compare un adesivo con la scritta perdonatemi la volgarità fa chiugreta il riferimento è la giovane attivista svedese impegnata come tutti ormai sappiamo nella lotta contro il cambiamento climatico. In realtà l'immagine è frutto di una modifica cioè la foto è originale e mostra sì un'auto quasi sommersa ma non c'è alcun adesivo attaccato al vetro posteriore e dunque nessun insulto o presa in giro nei confronti di Greta Thunberg. E grazie Camilla. Passiamo ora alla rubrica dedicata a scienze e medicina con Massimo Sandal. Ciao Massimo allora come anticipato con te approfondiamo il discorso che facevamo già prima cioè quanto e come anche le persone vaccinate possono trasmettere il virus. Allora come mai accade e che cosa significa per il futuro della pandemia? Ciao Tommaso sì come avete già ricordato è vero oggi sappiamo che i vaccini riducono non soltanto la gravità e l'incidenza della malattia da Covid-19 ma anche il contagio a seconda dei dati dal 70 all'85 per cento insomma ci sono stime che variano ma siamo in quella zona lì. Vorrei ricordare una cosa questa voce che gira e che tuttora purtroppo è anche la base di varia disinformazione secondo cui i vaccini non impedirebbero il contagio non nasce dal nulla. Devi valere il fatto che effettivamente all'inizio della campagna vaccinale noi non sapevamo se questo era vero, non sapevamo se i vaccini erano capaci di abbattere la trasmissione del virus perché gli studi clinici siano concentrati su quello che è il fattore più importante ovvero sia abbattere i sintomi della malattia. Però quando è iniziata la campagna vaccinale in tutto il mondo vari studi hanno analizzato un po' cosa succedeva e hanno verificato che i vaccini proteggono in buona parte anche proprio dall'infezione quindi non solo ci si ammala di meno se si viene a contatto col virus ma ci si infetta proprio di meno e quindi di conseguenza si passa anche di meno il virus. Di più un'altra cosa che abbiamo scoperto è che anche le persone che nonostante il vaccino si infettano perché ci sono comunque hanno una carica virale molto ridotta e quindi in media sono meno effettive perché hanno meno parti cerebrali da passare al prossimo. Quindi diciamo che è un caso in cui come è accaduto spesso durante la pandemia la scienza ha cambiato quello registro a seconda dei dati nuovi che uscivano. E tra l'altro è un positivo quindi insomma avrebbe quasi voglia di dire con i vaccini liberi tutti ci possiamo togliere le mascherine fare un bel rogo di mascherine comportarci come prima le cose mi sa che non sono così rose però sbaglio. Guarda il rogo di mascherine piacerebbe molto ma purtroppo no mi dispiace deludere non è ancora il momento di mettersi a togliere le mascherine e le misure di sicurezza perché siamo in una situazione in cui ci sono due cose un po' contraddittorie apparentemente che forse è quello che genera anche in tante persone confusione perché è vero che i vaccinati sono meno contagiosi questo ormai lo sappiamo con certezza però è vero anche che dobbiamo continuare a indossare mascherine e stare attenti perché perché i vaccini proteggono molto ma non del tutto quindi un pochino di circolazione virale può continuare a esserci. Qui faccio un esempio che ci è capitato sott'occhio a facta pochi giorni fa e che mostra secondo me molto bene questa situazione. Un esempio che purtroppo è stato usato ormai non ci sorprendiamo per fare disinformazione. Qualche tempo fa sul sito Il Paragone del giornalista e senatore Gianluigi Paragone è stata riportata alla notizia ovvero sia che sulla portaria britannica ci sarebbe stato un focorello di covid con oltre 100 casi nonostante i marinai fossero tutti vaccinati con doppia dose. Una questione che l'articolo dipinge come la prova che i vaccini fanno acqua a tutte le parti non servono a niente e così via. Ma è veramente così? La notizia è vera però andiamo a vedere i numeri. Si tratta di 100 casi su un equipaggio di 3.700 persone. Quindi parliamo di meno del 3% dell'equipaggio. E questi 100 casi come ha detto il segretario della difesa britannico hanno tutti i sintomi o lievi o inesistenti tanto che li hanno scoperti non perché fossero malati ma perché fanno i tamponi di routine quando si fermano nei porti per verificare appunto che il personale non sia stato infetto. Ora guardiamo cosa succedeva prima dei vaccini. quando il SARS-CoV-2 arrivava a bordo di una nave faceva letteralmente strage. Tra marzo e aprile 2020 sulla portaria americana la Theodore Roosevelt si infettò quasi il 27% dell'equipaggio con 23 recovery e un decesso. Ora una situazione completamente diversa. Questo ci dice che il vaccino è vero non è perfetto e fa comunque circolare un po' il virus perché la protezione non è completa ma nessuno ha mai preteso che fosse la protezione del 100%. Non esiste un vaccino così potente. però ha cambiato completamente la gravità della situazione. Da quella che è un'emergenza sanitaria ora abbiamo una situazione che è del tutto sotto controllo. Davvero avendo il 100% di vaccinati, il contagio riguarda il 3% e nessuno con sintomi gravi direi che è chiaramente un caso positivo, un caso a sostegno della bontà dei vaccini. La speranza è quella di raggiungere poi questa famosa immunità di gregge, il livello di immunizzati oltre il quale la malattia non circola più. Il virus non fa in tempo a trovare una persona ospite in cui andare a replicarsi e quindi rimanere vivo. Dopo un po', non trovando la possibilità di fare questi salti, muoiono e la pandemia si ferma finalmente. Quindi ce la faremo? È la domanda che ti faccio e che tutti noi ovviamente ci facciamo? Tutti lo speriamo ma purtroppo ancora non lo sappiamo. Questo soprattutto perché purtroppo la famigerata variante Delta ha scombinato veramente le carte in quanto è molto più trasmissibile. Ora, va detto che non sappiamo ancora in dettaglio quanti vaccini proteggono dal contagio con la Delta. Sappiamo che proteggono la malattia anche dall'infezione, quindi probabilmente anche dal contagio, però ecco non abbiamo ancora dei numeri molto precisi, anche se ci sono dei numeri dal Ministero della Sanità inglese che danno dei indizi positivi. Il problema però è che siccome la Delta è così trasmissibile, la soglia di persone pienamente immuni da raggiungere dovrebbe sforare l'80%, mentre prima, come versioni precedenti del virus, diciamo così, sembrava che potesse bastare un'immunità del 60-70%. Ora, oltre l'80% è una soglia che purtroppo non è molto realistica, almeno finché non verranno vaccinati anche gran parte dei minorenni e stima che potrebbe anche soffrire dell'efficacia che purtroppo è leggermente ridotta, di poco ma comunque un pochino, dei vaccini contro questa variante. Nonché, ultimo fattore, del fatto che l'immunità nei mesi successivi alla vaccinazione cala leggermente, non tantissimo ma pochino, e quindi tutti questi fattori potrebbero rendere un po' più difficile arrivare alla soglia necessaria per l'immunità di gregge. Questo discorso delle varianti però è importante che tu abbia tirato fuori perché ci fa capire in realtà quanto è importante vaccinare e allo stesso tempo non pensare che mentre vacciniamo allora è già tutto finito. Questo perché i ricercatori oggi sanno, o quantomeno sospettano, che se il virus continua a circolare e non vacciniamo abbastanza, possono davvero evolversi ulteriori varianti che potrebbero, speriamo di Roma, non è impossibile, essere capaci di sfuggire ai vaccini. Questo, voglio essere molto chiaro, non perché i vaccini causino le varianti, questa è una frase che si trova purtroppo oggi dappertutto in molti casi di disinformazione, ma perché se lasciamo circolare il virus mentre vacciniamo, semplicemente perché diciamo vabbè ma tanto adesso non c'è più tanti morti, tanti decessi, tanti ricoveri perché le persone a rischio sono vaccinate, permettiamo al virus di replicarsi e di evolvere e quindi magari anche di accidentalmente evolvere una variante che sia capace di bucare i vaccini, tra virgolette. Questo sarebbe veramente un scenario catastrofico, anche se potremmo magari poi metterci una pezza con nuove versioni dei vaccini, ma purtroppo è stato considerato realistico dagli scienziati. Ad esempio in Inghilterra, il 7 luglio, è stato pubblicato un appello sulla rivista Lancet, una delle più prestigiose riviste di medicina del mondo, firmato oggi da oltre 1200 medici e scienziati che chiede al governo inglese di rivedere la riapertura ormai quasi totale in Inghilterra in quanto appunto farci colare il virus con la popolazione vaccinata a metà è, secondo vari modelli matematici, il miglior modo di far evolvere il virus in direzioni diciamo poco piacevoli. Quindi cosa dice la scienza? La scienza oggi ci dice che la cosa migliore da fare sarebbe prima vaccinare tutti o quasi tutti, comunque più persone possibile e poi eventualmente riaprire. Questo veramente ci potrebbe dare una via d'uscita. E grazie Massimo Pagella Politica è un progetto di fact-checking attivo dal 2012 e si occupa di verificare le dichiarazioni dei politici. FACTA è il nostro progetto di debunking dedicato alla verifica di notizie potenzialmente false. Seguiteci sui nostri siti www.pagellapolitica.it e facta.news e sui nostri canali social Twitter, Facebook e Instagram. Per non perdervi le prossime puntate iscrivetevi al canale di Pagella Politica su qualsiasi piattaforma usiate per ascoltare podcast. Il podcast di Pagella Politica è stato scritto questa settimana da Tommaso Canetta, Laura Loguercio, Camilla Vagnozzi e Massimo Sandal ed è prodotto da Jessica Mariana Masucci. Ha partecipato Lorenzo Ruffino. Io sono Tommaso Canetta e questo era il podcast di Pagella Politica. Grazie. 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 Grazie.